Il 19 novembre ti invieremo una mail con i codici di accesso per iniziare a giocare insieme alle informazioni per la configurazione. Ricordati di controllare la posta in arrivo e verificare che il nostro messaggio non finisca nella cartella spam. A presto il Team Stadia, Google Stadia. Ora, fatemi capire, esiste il problema reale che Google ti mandi una mail su Gmail e che Gmail la mandi in spam. È fantastico. Ecco la nostra Stadia, però dal lato giusto perché come potete vedere questa scatola è griffata, parliamo di videogiochi. Questo box è arrivato oggi, quasi a sorpresa, adesso è praticamente notte perché siamo stati tutto questo tempo a provare Stadia e come abbiamo detto nella lettera che avete appena sentito il 19 appunto è stato lanciato Stadia e come tutti sanno a partire dalle 18 è cominciata la fase appunto di utilizzo. Quindi a partire da quell'orario sono arrivati i vari codici perché appunto si poteva avere questo kit però senza codice non potevi utilizzarlo. Beh, abbiamo provato Stadia per tutta la sera in tutte le varie configurazioni wireless, cablato, vedrete anche come, e con vari dispositivi. Questa è la confezione Founder perché ricordo diciamo Stadia non è una console fisica, diciamo così. Questo diciamo è il supporto Founder che comprende appunto il controller che adesso vedrete più nel dettaglio che diciamo un innolo aggiuntivo diciamo quasi commemorativo per il lancio di questa console che più che una console è una piattaforma effettivamente. Consideriamola diciamo come se dovessi dire un Netflix però per quanto riguarda i videogiochi. Per il paragone con Netflix, dove differenze ce ne sono, questo era giusto per intendere il concetto, ne parleremo più tardi perché effettivamente Stadia è una piattaforma, è un servizio, non si tratta di una console fisica, quindi teoricamente di tutte queste cose potremmo assolutamente non farci nulla perché effettivamente si tratta di pagare un abbonamento o comunque servizi, giochi o quant'altro, ma questo lo vedremo più avanti. Cosa troviamo quindi nella nostra edizione Founder, oltre al controller che vi ho appena mostrato? Essenzialmente avremo anche il nuovo Chromecast Ultra. Dico nuovo perché la versione precedente si chiama sempre Chromecast Ultra ma è differente perché l'unica differenza tra quella che magari già possedete è questa e che questa fa girare Stadia, quella precedente no, ma essenzialmente si tratta di accessori in più perché un vostro qualsiasi dispositivo in grado di far girare Chrome è in grado di far girare anche Stadia, indipendentemente dal controller o altro perché se avete controller, tastiere e roba del genere che sono collegati al dispositivo potete usare tranquillamente quelli. La Founder costa 130 euro e appunto fornisce il controller, il Chromecast Ultra che di base costa sulla settantina d'euro e tre mesi di abbonamento Pro. Tra poco vedremo appunto cosa consiste l'abbonamento Pro e come funzionano i pagamenti per i vari servizi. Una cosa che ci ha molto stupito fin dall'inizio è stato l'alimentatore. Voi direte l'alimentatore che cosa può avere di speciale? Ha qualcosa di speciale che tra l'altro sono due, c'è anche questo che è un altro alimentatore, ma questo è particolare. Cioè può sembrare un cavo normalissimo che termina in USB, neanche Type-C termina in micro USB. Abbiamo una presa Ethernet qui sotto, effettivamente possiamo collegarci sul Chromecast Ultra tramite cavo Ethernet, quindi in rete cablata e non Wi-Fi. Perché quindi tendenzialmente come funzionerà? Ipoteticamente colleghiamo l'alimentazione, attacchiamo un cavo Ethernet e poi tramite l'USB ci colleghiamo direttamente al Chromecast Ultra. Tramite il Chromecast Ultra ci colleghiamo poi in HDMI al televisore. Sembrerà una cosa quasi scontata, ma comunque dare la possibilità di connettersi direttamente tramite il router, magari non utilizzare il Wi-Fi, scusate se poco, è una bella feature. Ma adesso voglio dire riponiamo un pochino tutto, ma tutto quanto anche il controller, e cominciamo a parlare di Stadia. Allora come prima cosa abbiamo collegato uno switch direttamente alla presa che esce nel mio studio, in maniera tale da collegare il computer appunto che stavamo utilizzando, ma anche il Chromecast Ultra. Siamo partiti appunto dalla configurazione ottimale, probabilmente la più potente che si può utilizzare in questa configurazione. Giusto per specificare, ma per chi appunto non sta seguendo i vlog dei lavori dello studio sul nostro canale Parliamo di Hardware, abbiamo in studio una fibra da 1500, quindi diciamo che, come vi ho appena detto, siamo nella situazione migliore per poter provare Stadia. Per mostrarvi meglio, qualora vogliate vedere più nel dettaglio la qualità dei giochi utilizzabili da Stadia, abbiamo collegato non direttamente al monitor il Chromecast, ma l'abbiamo fatto passare tramite il dispositivo d'acquisizione Elgato, in maniera tale che possiate vedere direttamente quale sia la qualità grafica di questo utilizzo in streaming. Ovviamente il gameplay che vedrete acquisito diretto è in Full HD a 60fps, perché appunto è questo il limite del dispositivo, ma siamo riusciti tranquillamente a giocare a 4K con l'HDR attivo, ma questo appunto lo vedrete successivamente con delle riprese esterne, perché appunto direttamente non potevamo acquisirlo e questo purtroppo è uno dei pochi limiti che abbiamo. Una volta collegato il Chromecast, la prima cosa che abbiamo fatto tramite l'app di Google Home e quella di Stadia, abbiamo accoppiato il controller con la rete dello studio. Una volta fatte tutte le configurazioni iniziali, come funziona il tutto? Occorrerà avviare un browser essenzialmente o semplicemente essere collegati sul televisore tramite il Chromecast Ultra. A quel punto va fatto riconoscere il controller, che appunto una volta che accoppiato sarà sufficiente avviarlo e comporre una sequenza di tasti che verrà riportata sullo schermo. A questo punto siamo dentro Stadia. Il controllo di Stadia avviene o tramite il controller, qualora avessimo già riscattato dei giochi, oppure come fresh start, diciamo così come primo inizio, occorrerà necessariamente l'app da telefono. Infatti tramite l'app potremo riscattare o acquistare i vari giochi. Con la versione Pro si hanno due giochi gratuiti al lancio, Destiny 2 e Samurai Shodown. Insieme a quelli abbiamo aggiunto anche Tomb Raider Definitive Edition, che era scontato 10 euro, l'abbiamo aggiunto, giusto per avere un metro di paragone differente, uno stile di gioco appunto diverso da Destiny 2 o un picchiaduro come Samurai Shodown. Allora, come vi ho sempre detto, anche all'epoca nello speciale di giochi brutti, in genere i miei video li scrivo tutti completamente. Questo è uno dei pochi nel quale voglio dirvi a caldo le impressioni che abbiamo avuto in questa giornata su Stadia. Allora, devo essere sincero, pensavo peggio, vi spiego perché. Allora, dal punto di vista grafico, visuale, non abbiamo avuto alcun tipo di problema, cioè praticamente quasi zero. L'unica cosa che magari noti, che appunto non stiamo giocando direttamente al gioco ma stiamo seguendo un flusso streaming, sono le zone particolarmente scure dove c'è tanto buio, dove vedi effettivamente, avete presente quell'effetto di scala di grigi molto marcate nel buio. Ecco, in determinate sequenze lo vedi essenzialmente come un video su YouTube alla massima qualità interattivo, cioè hai l'impressione di comandare un video, però dovete tenere in considerazione anche che abbiamo utilizzato un monitor gaming serio, diciamo, dove ogni singolo dettaglio lo vai a notare. Magari sul televisore o altri tipi di monitor lo noti un po' meno, ma essenzialmente nelle parti molto scure, come vi ho detto, si può notare appunto che si tratta di uno stream e non di un gioco. Magari per esempio in giochi dove c'è stata più luce, tipo Shadow of Tomb Raider, abbiamo sofferto molto meno questo problema, anzi sono arrivati in alcuni punti all'aperto dove effettivamente non ci stiamo più rendendo conto che stiamo utilizzando uno stream e non l'effettivo gioco per PC. Questo perché ovviamente noi, ma come chiunque, partendo anche con tanto scetticismo, guarda con un occhio particolarmente critico a quello che sta giocando, quindi siamo andati a cercare magari tutti i dettagli, a fare un sacco di prove, ovviamente la prima che abbiamo fatto è quella del delay. Ora, c'è da fare una considerazione. Il delay è molto più basso di quel che mi sarei aspettato o comunque di quel che abbiamo provato in passato su altri servizi di streaming. Abbiamo fatto un test un po' empirico, cioè molto istintivo, dove praticamente abbiamo provato a spostare tipo flick la grafica all'interno di un gioco in prima persona. E qui infatti vi sto mostrando la differenza di Destiny 2 su Stadia con l'ultimo Call of Duty, però non in streaming e versione PC, in maniera tale da darvi un'idea di quanto lag ci sia. Ovvio c'è del ritardo, perché comunque il segnale ti deve ritornare dalla macchina in remoto, però devo essere sincero, per giochi dove non c'è bisogno di tutto questo timing. Non è un ritardo che dà fastidio, come posso dire, è un ritardo accettabile. Anzi, in determinati momenti, anche con Tomb Raider, quando ti devi muovere, quando i movimenti sono con animazioni molto lunghe, diciamo così, una volta che hai dato l'input, ci fa veramente poco caso. Certo, un gioco come Destiny riesce a giocare, avverti un pochino quel delay, in particolar modo per me, giocare col controller, ovviamente è stato atroce, ben altre esperienze invece l'ho avuta giocando con Chrome, direttamente su PC, con mouse e tastiera, lì è stato ovviamente tutt'altro tipo di gioco. Certo, ti accorgi che effettivamente un minimo è in streaming, però appunto non essendo un Counter Strike, dove saresti appunto un cretino a pretendere di giocare in maniera, non so, professionale per dire, eh, vado online, spacchi curare le persone con Stadia su Counter Strike. No, è completamente sbagliato. Cioè, qualsiasi cosa che ti richieda timing e input lag, rasenti lo zero, raga, Stadia, lasciate completamente perdere. Cioè, qui si tratta semplicemente di un sistema in grado di farti godere giochi, pur non avendo l'hardware per farli giocare, comunque in qualità alta. Cioè, il vostro unico requisito è avere una linea buona. Ovviamente inserire qui sotto nei commenti battute su, io abito qua, là, la linea non arriva, a me funziona così, eccola. Però, di base si tratta di questo. E poi anzi ne parleremo, perché non è che stiamo dicendo le cose così, eh, vabbè, ma tu grazie a cazzo stai utilizzando nello studio tuo che c'è quello che c'è l'altro. No, perché chissà nel gruppo Facebook, dove parliamo di videogiochi, si è trovato davanti un sondaggio in tempi non sospetti, moltissimo tempo fa, dove abbiamo raccolto i vostri risultati degli speed test di Stadia, le vostre esperienze, cosa vi aspettate, cosa non vi aspettate, dove abitate, dove non abitate. Abbiamo fatto tutto dati alla mano. State tranquilli. Il suddetto sondaggio l'abbiamo condotto su di voi. Ossia, le due mila persone, che ringrazio vivamente, che hanno partecipato appunto alla nostra indagine nel gruppo di Parliamo di Videogiochi. Se vi interessa il gruppo lo trovate qui sotto in descrizione, così come i risultati. Perché per noi questa indagine è molto importante? Perché all'annuncio di Stadia ci sono stati tantissimi commenti basati su opinioni del tipo, eh, ma Stadia non reggerà, non funzionerà, non partirà, non ci giocherà nessuno. Per avere un'idea migliore abbiamo scelto il pubblico o comunque l'utenza migliore che potesse valutare una cosa del genere, cioè voi, non andando a pigliare magari la gente in mezzo alla strada, come diceva prima Max, andare al circolo della terza età, a chiedere ma tu Stadia lo useresti? No, effettivamente voi siete il pool di persone adatto per rispondere a dei quesiti di questo tipo. Allora, tanto per cominciare, delle due mila persone che hanno partecipato, che approfitto nuovamente per ringraziare, quasi tutti utilizzano servizi streaming, infatti il 63% di voi utilizza Netflix, il 35%, Spotify, poi scendendo abbiamo 48% Amazon Prime, vari servizi tipo Crunchyroll, Infinity, Deezer, comunque utilizzate, anzi utilizziamo perché pure le persone che stanno in questa stanza hanno partecipato al sondaggio, utilizziamo tutti quanti servizi di streaming. Tutto questo in un ambito di persone che si sono autodefinite al 35%, casual gamer, 37%, avid gamer, pro gamer 10% e hardcore gamer al 16%. Quindi diciamo c'è stata molto umiltà e sincerità, cioè non è spunto tutto pro gamer e tutto quanto, diciamo vi ho amato tantissimo perché siete stati estremamente veri nelle risposte, anche in quelle che sono venute in questo momento. Trattasi delle ore di gioco durante la settimana e soprattutto i test per Stadia. Per quanto riguarda le ore di gioco abbiamo ottenuto una media di circa 25 ore a settimana, poi abbiamo avuto pure qui da esagerare che hanno messo 70-80 ore, però diciamo si tratta di casi a parte. In statistica si chiamano? Outlayer. Ah, Outlayer, esatto, sono Outlayer. Ma i dati più importanti di quest'indagine, ovviamente dato che si tratta di Stadia, riguardano la linea. Ovviamente la prima domanda era dove abitate. Il 34% di voi abita in un grande centro urbano, 55% abita in paese, il resto in una piccola comunità. Quindi tendenzialmente quasi la metà, anzi più della metà di voi, abita in paese. Di questi abbiamo tratto un altro dato importantissimo. In genere ogni volta, allora Mauri, ogni volta che prendiamo un video magari di un router, si mette in ballo la linea, cioè come se tu tirassi fuori, non so, l'anima dalle persone. I commenti sono sempre, eh ma io se vedo una cosa che va oltre lo zero sulla mia linea, è una gran cosa e roba del genere, ma c'è un sacco di blaming sulla propria linea. E infatti sta cosa ci ha sorpreso perché ben il 57 e mezzo di voi è soddisfatto della propria linea. Non è soddisfatto il 34%, il resto, il 7%, non saprebbe valutare. Quindi è andata completamente contro le nostre aspettative. Premettendo che tutti questi grafici e tutti questi dettagli che vi sto dando li trovate qui sotto in descrizione con i risultati della nostra indagine, essenzialmente più della metà di voi ha linee da 10 o 50 megabit. Tutto il resto si divide quasi perfettamente tra chi sta peggio e molto peggio e chi sta meglio e molto meglio, ovviamente di quel range 10-50 che vi ho detto prima. Infine, cosa interessante, siete interessati a Stadia? Il 56% aspetta nuovi sviluppi? 22% no, 21% sì. E altra domanda ancora più interessante, quasi come questa. Pensi che lo streaming sia il futuro del gaming? Quasi tutti scettici. 48% lo sarà per alcuni tipi di generi? Sì, 29%, no, 21%. Al contrario appunto di molte voci e opinioni che si sentivano appunto al lancio. Al lancio, scusate, il lancio è oggi. All'annuncio. Detto questo mettiamo da parte i sondaggi e tiriamo un pochino di conclusioni che diciamo sono relativamente semplici da tirare perché appunto non si tratta di testare un gioco, un prodotto, ma un servizio. Quindi si tratta di esperienza e all'atto pratico cosa abbiamo tra le mani, anzi tra le mani diciamo forse sbagliato nel cloud, ecco, cosa arriva attraverso la nostra connessione. Stadia è un servizio che ha un solo requisito importante, la velocità della vostra linea. Quindi non c'è per la prima volta da badare all'hardware, che periferiche utilizzate, ma solo ed esclusivamente alla linea. Il massimo diciamo di banda che può utilizzare Stadia anche dopo le nostre prove, così come state vedendo, sono 40 megabit. Quindi anche se avete una linea per dire 100 megabit siete completamente a posto. Per linee inferiori non è che non arrivate magari requisiti, ma non potrete giocare al massimo della qualità perché in quei 40 megabit si intende raggiungere i 4k e l'HDR, cioè quindi il massimo della qualità raggiungibile. Quindi se state in full HD siete giocatori a 720 o comunque avete monitor 720 o comunque la linea vi permette di arrivare a 720, potete comunque giocare ma appunto a quella qualità video. C'è da fare una precisazione, così come per Netflix, appunto questo è un paragone che si può fare, per ottenere un gaming a 4k abbiamo bisogno dell'abbonamento pro che sarà disponibile in futuro per chi non ha acquistato una founder. Perché al momento gli unici possessori di un account pro è chi è riuscito ad acquistare una founder edition. In cosa consiste un account pro? Potete utilizzare appunto il 4k e l'HDR, quindi se avete monitor o televisori 4k benvenga, oppure potete avere buoni sconti sui giochi. Ed è proprio su questo punto che non ci siamo trovati d'accordo. Stadia ci ha fatto un po' storcere il naso. Qui veniamo anche al motivo per il quale non si può paragonare completamente Stadia a Netflix, perché con un sistema tipo Netflix paghi un abbonamento e ottieni tutto il catalogo, per esempio di Netflix, di Hulu, di Amazon Prime. Con Stadia no. Col Pro non hai diritto a tutti i giochi e come vi abbiamo detto hai diritto magari eventuali giochi gratuiti che ti danno, oppure degli sconti, perché i giochi comunque li deve acquistare, sconti o non sconti. E qui arriviamo a qualcosa di un po' controverso, perché effettivamente se tu devi accedere a un servizio del quale paghi un abbonamento, tra l'altro un extra per avere il Pro, vorresti qualche servizio un po' più consistente. Vedete per esempio, non lo so, con 10 euro al mese di Xbox Pass hai diritto a 100 giochi, quindi un catalogo di tutto rispetto. Mentre appunto con Stadia questi privilegi non ce li hai, eppure stai pagando un abbonamento. Il problema di fondo qual è? Se una persona parli di streaming, torniamo per l'ennesima volta al cacchio di Netflix, uno pensa, pago l'abbonamento, con l'abbonamento ho accesso a tutto il catalogo. Non è che magari faccio il noleggio a film là, prendi quello e tutto. Tu paghi un fisso e vedi tutto. Quindi il mondo, cioè non soltanto noi magari che possiamo dire, abbiamo le linee così, c'è Minitalia e tutto, non siamo questo e quell'altro, il mondo si aspetta un servizio completo. Purtroppo far pagare un abbonamento e aggiungere anche l'acquisto di giochi da utilizzare, diciamo, non magari in maniera fisica, non che ce l'hai tu, ma utilizzarli in streaming, molto probabilmente è un concetto che all'utenza non piacerà. Cioè, a noi per esempio non è piaciuto. Potremmo anche sbagliarci, ma allo stato attuale per come a livello concettuale è impostato il servizio abbonamento streaming in questo modo non può funzionare. Porca miseria, sì, stai utilizzando un servizio di Google, porca miseria, identificatemi un concorrente di Google in grado di fare questa operazione mastodontica in termini di linea e calcolo, ma allo stato attuale non ci siamo a livello concettuale proprio. E poi, voglio dire, non penso che appunto Google stessa non sia in grado di avere uno potere contrattuale, due creare dei buoni deal magari con i produttori di giochi, con i distributori e così via per poter proporre qualcosa di migliore ai suoi utenti. E tra l'altro, piccola aggiunta fresca, perché di due o tre giorni fa, Microsoft, quando appunto è stato annunciato anche di Home Empires, quello nuovo, il 4, siamo in hype da morire, aperta e chiusa parentesi, annunciato che il suo servizio di gaming e streaming sarà incluso nell'Xbox Pass che vi abbiamo citato prima. Quindi diciamo che è la battaglia aperta, quindi anche qui abbiamo visto di recente appunto Steam ed Epic Store battagliarsi su determinate cose. Aspettiamoci più o meno la stessa cosa con questi nuovi servizi di streaming per i giochi. Concludendo su Stadia, il servizio funziona, non abbiamo avuto alcun problema, il gioco è stato piacevole. Ovviamente, come vi ho detto prima, se pretendete di giocare titoli dall'estrema precisione, che richiedono un input lag rasente allo zero, lasciate perdere. Se volete il gioco tranquillo da poltrona, magari da godersi tranquillamente, non lo so, a me viene in mente subito un The Last of Us per dire, ma anche lo stesso Tomb Raider che abbiamo visto prima è perfetto, anche perché effettivamente se non stai troppo a pensare che c'è il ritardo, lo assimili molto facilmente, non ci fai neanche più caso. Come vi ho detto, magari non è adatto per tutti i titoli, ma per un buon 60-70% sì. Poi comunque c'è da premettere una cosa, vi ho parlato di Stadia, al day one è giovane, Stadia ha tutta la vita davanti, cioè arriverà il 2020, poi ci sarà un motivo per il quale tutti i più grandi produttori si stanno buttando sul game streaming, cioè ci sarà qualcosa alla base che li ha mossi tutti quanti, cioè non è che questi prendono e buttano soldi su qualcosa. Oddio, succede, però quando lo fanno in massa tutti quanti e lo fanno dei colossi, c'è da chiedersi perché l'hanno fatto e se l'hanno fatto non lo fanno per bruciare soldi, ma perché ci sono degli interessi reali. A noi personalmente Stadia è piaciuto, l'unica cosa del quale non siamo d'accordo è la gestione dei pagamenti e degli abbonamenti, perché se Google cerca di accaparrare una grossa fetta di mercato, appunto con un servizio di streaming così massiccio e potente, purtroppo il modello di business che ha scelto non conquisterà l'utenza. Quindi in conclusione, in questa lettera che mi hai mandato, dove hai scritto, sii tra i primi a giocare e condividi il tuo unboxing e le tue prime impressioni di gioco con i tuoi follower, le mie impressioni sono cambiate i termini, offrite qualcosa di diverso e pensate a qualcosa a livello strutturale differente, perché appunto pagare un abbonamento e poi acquistare i giochi è un tipo di sistema che non può funzionare. Almeno oggi con la mentalità attuale e con i servizi al quale è abituato l'utente, Stadia non può esplodere. Detto questo, questa era la mia risposta alla lettera, anzi siamo io e Max che mi ha aiutato come sempre in questo video, stracontentissime di essere stati tra i primi a provare questo servizio che appunto funziona ma semplicemente ha bisogno di tempo per essere ben calibrato. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre ogni cosa di cui abbiamo parlato, compresi i risultati di prima e altre informazioni, li trovate qui sotto in descrizione. Per oggi da me, il buon Max e altre persone che sono qui in studio, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.